buongiorno amici miei vi sorprenderò ancora con una super canzone la canzone si chiama inviria mia tra gusti e mia è stata preregistrata nel studioma di bucareste e lo dedico specialmente per signor apostol rado e per il suo grande amore narsis di cremuna ascoltate come dicono nel rumeno azi m'opti cand m'ai trezit mi-ai spus ca te-ai speriat plangeam si vorbeam in sonola ca ti-ai ipan si am oftat mește-ti pe lampele si in fruntea cu palmele de sulul dori si mi-ai spus ca te-ai pe reia ampi si tu ta-ai pe reia spoiman si fiul ceo mai mare din spre dare cine poate sa-mi lu dea frica pentru bunea sirvii ne voi pierde viața-mi noamn Vorrei a lasciare il piacere dice cioè te know you hai stato gradi qui ero lelelelelele officials A presto. A presto Grazie a tutti